Ciao ragazzi ed eccoci qua su Orbox C il nuovissimo gioco beh perché lo porto io però questo gioco di Orbox C è già uscito il 28 dicembre nel 2016 quindi due anni fa e potete trovarlo al costo di 3 euro su Steam potete scaricarlo al costo di 3 euro questo gioco possiamo dire che è un rompicapo più o meno è nella stessa categoria di Fangio ma questo è un pochino più possiamo dire semplice è un rompicapo non è tanta logica insomma direi di giocare almeno vediamo un po' come funziona questo gioco allora innanzitutto questa musica è carina però abbassiamola ma si dai 20% ci sta e andiamo su Orbox C quindi ok quanti verdi so sembrano 8 ma strano andiamo su AC e il gioco A A A Cioè ci sono un botto di livelli alla fine no vabbè Allora direi di iniziare subito direi di iniziare subito se ci piace possiamo fare anche una serie ok frecce vabbè ok frecce vabbè usiamo wast restart quindi dobbiamo andare sull'uscita ok che sarebbe l'icona di Orbox bene bene io sono questo quadratino va benissimo livello 1 ah no aspettate devo fare no è il classico gioco rompicapo che praticamente devi trovare l'uscita grazie a degli appoggi no qui è veramente diventa dopo diventa veramente qualcosa di intrippante ragazzi io non riuscirò mai a portarvi una serie su questo gioco ve lo dico subito ma per carità ma per carità e qui no 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 non si può fare ok boh così guardate che impicci per completare questo livello ed è una modalità facile eh livello 3 sempre diamo realità facile io ragazzi no non vi voglio portare proprio questo episodio perché è questa serie perché no proprio innanzitutto perché poi penso che pure una noia una noia veramente pazzesca però ragazzi la mia mente proprio addio addio cioè impazzisci troppo con questo gioco secondo me secondo me pure che grazie al creatore io questo gioco sono riuscito a averlo gratis però mi dispiace per lui ma non mi piace proprio non mi piace proprio perché devi avere logica io la logica non la voglio avere ma che per carità è un bel gioco per passare il tempo però non è secondo me un bel gioco da portare su youtube ok va bene andiamo avanti non lo so cosa sto facendo ragazzi ma va benissimo noi andiamo avanti facciamo più livelli possibili ma ragazzi la serie proprio non ve la voglio portare a meno che questo video non raggiunge i 5 mi piace qui proprio va bene avete visto la mia fine qui ok ho finito ma sembrano facili adesso però guardate che casino appena sbagli un passo tu ricominci tutto il livello vabbè qui devo fare tipo una cosa no come cazzo ok va benissimo ok oh incredibile ma con un po' di astuzia si può fare vi ricordo che questi sono tutti i livelli facili quindi è normale che sono un po' facili da farli eeeh che sono queste cose ah teletrasporti va benissimo e no vabbè qui è veramente qualcosa di intreppante ok 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 prossimo livello li sto facendo in modo velocemente siamo già a livello 8 incredibile manco ci credo per carità vi ripeto è un bel gioco per passare il tempo ma porco cane ci vuole una pazienza benissimo prestartiamo eeeh ci vuole una pazienza incredibile quindi come cavolo ci arrivo lì eeeh non ci sto capendo niente ragazzi oh mio dio cioè io vorrei rivedere il replay cosa ho fatto perché boh boh manco mi rendo conto cosa sto facendo ragazzi manco mi rendo conto eeeh livello 9 comunque mamma mia mamma mia più andiamo avanti e più farà una roba schifosa qui uscirà una roba veramente incredibile sono morto no va benissimo quindi sopra così devo andare per forza qua mi devo passare qua poi qua e no muoio come vedete poi ti dice poi i passaggi che hai fatto nel nel perdere come vedete tutte queste cose grigie cose che non devo fare boh se io devo arrivare lì praticamente devo arrivare qua però non so dove si passa qui si muore allora no 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 così no assolutamente no così poi così eeeh ci possiamo andare lì qua per forza poi qui poi così ah era facile ragazzi praticamente dovevo andare su quel triangolino poi ci sono questa serie di trasporti veramente incredibili ok e le stelle pure no devo collezionare tutte le stelle per vincere tipo no ragazzi un attimino di pazienza ok vabbè questo perché era facile però se ci sono veramente dei livelli grandissimi sono una cosa veramente incredibile siamo livello 11 è che forse oggi riusciamo a fare tutti i cosi facili tutti i livelli facili forse qua eh qua mi sono bloccato tocca ricominciare assolutamente tocca fare tipo così 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 ok praticamente dovevamo fare così ok prossimo livello livello 12 stessa la pappa qui che posso fare tocca fare tipo così 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 no qui mi intrappolo vabbè archivialmente sbloccato wow incredibile qui non si può fare aspettate forse così no non ci credo per quello non ci riesco la nazione dannazione non ci riesco per quelli due dai come era come cavolo era vedete c'è poi solo una combinazione esatta per risolvere questi livelli ragazzi è una cosa incredibile ma che cavolo altro che find you preferisco find you 1400 volte di questo gioco ok non mi ricordo più cosa ho fatto prima ecco il problema è questo se non ti ricordi più niente se è fottuto no mi sembra ragazzi che docca fare una cosa del genere facciamo tipo così a file però mi ha trollato in una maniera pazzesca no lo devo rifare no altro che anzi no ci sono riuscito che culo pensavo di non di non riuscire a prendere quello lì vabbè ci siamo riusciti dopo tanto e qui che è questo adesso ma che è livello 13 mamma mia ah e quindi ok sono fottuto dove passavo ragazzi così poi qua sopra mi sa ah vabbè logicamente è facile vabbè ci sta ecco adesso qui ecco no no cosa devo fare così no mi tocca rifare così forse così così ok no praticamente no come faccio a prendere praticamente quella cosa ok così ok mi stavo preoccupando ragazzi perché non sapevo prendere quegli altri due spori quindi vabbè livello 15 mamma mia oggi facciamo tutto un botto incredibile manco senza tagli senza niente ah eh eh allora quindi eh no oh mio dio ragazzi ma è incredibile cosa ho fatto ma è incredibile veramente ma io pensavo che perdevo mamma mia che logica mamma mia livello 16 andiamo avanti wow allora mmm qui che palle però queste robe ok ci siamo riusciti ammazza pensavo che era un pochino più difficile invece no livello 17 wow ma è incredibile che oggi facciamo tutta una tirata ma proprio chi se ne frega così 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 wow livello dai 18 datemi il livello 18 eccolo qua dai 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 mi sento carico mi sta incominciando a piacere questo gioco ecco adesso no allora così così no così così ok così 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 e quindi ah così perfetto forse no sì ah è così mi stiamo un attimo impallando comunque eccoci qua livello 19 ok ci sono anche le bombe che roba e si no ah ok no non esplorano così ma praticamente così mazza che schifo ragazzi ma che è ok ma boh vabbè allora noi dobbiamo arrivare praticamente qua per mandarlo qua no anzi no potevamo fare una cosa del genere adesso che ci ho pensato però quella è sì ragazzi non posso farlo però no sì che posso farlo devo ristaltare devo passare per di qua ecco adesso qui esplode perfetto vai 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 voilà eccolo qua livello 19 completato livello 20 ma quanti livelli sono ragazzi tanto per curiosità fatemi un attimo vedere ah ok ci mancano gli ultimi 10 livelli ma sì dai livelli 30 tipo 30 livelli per tipo modalità facile difficile normale difficile non lo so comunque nella modalità facili sono 30 livelli e qui ma cosa cosa devo fare qua ragazzi non ho capito ah ok ho capito adesso tocca arrivare qua mi sembra anzi no facciamo una cosa più bella ok così tocca fare così riusciamo a completare questo livello voilà wow 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 mi sento veramente un mago per fortuna questi sono livelli veramente facili altro che serio ma qui facciamo tipo in un unico episodio riusciamo a completarli tutti tra poco pure se dura un botto però ci sta allora qui ragazzi fatemi un attimo ragionare proviamo a fare così anzi forse ho sbagliato no perché no ho sbagliato forse sapete mi sa che ho sbagliato eh sì ragazzi ho sbagliato veramente eh sì ho sbagliato dove vado giù non lo so allora eh no qui lo devo per forza fare proviamo a passare sopra così poi così allora così 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 e ce la facciamo in teoria vediamo sì perfetto ok ciò a pensare un attimo eh adesso livello 22 dai ci mancano 8 livelli per completare questa moralità facile mamma mia tutta una tirata abbiamo fatto oggi comunque e beh qua dobbiamo esplorare tutte le bombe mi sa eh sì ah qui si fa veramente interessante perché non so dove andare allora facciamo così poi facciamo così facciamo così facciamo così facciamo così eh praticamente manca una facciamo così facciamo così facciamo così 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 ok vediamo perfetto oh dai mi sto un pochino divertendo allora livello 23 23 23 23 no qui ci vuole la logica ragazzi allora lo sapevo e lo sapevo ragazzi mancava quello poi allora facciamo così ok ok no allora 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 qui veramente è una cosa incredibile cosa hanno fatto non lo so nemmeno io allora poi qua qua e rimane sempre quello però mortangoli sua beh eh si ragazzi cosa posso fare ragazzi non posso fare niente perché quello sta in mezzo l'unica cosa è morire anzi no nemmeno sono intrappolato proprio qua restartiamo o tocca fare tipo così una roba del genere forse così si ragazzi è così io che ci stavo pensando veramente un botto mamma mia era così ragazzi non ci avevo pensato infatti c'erano tutti questi quadrati che facevamo da guida però non ci avevo pensato che potevo fare livello 24 wow qui dobbiamo riscopiare tutte le bombe qui facciamo una roba del genere ma credo che non riusciamo proprio facciamo così facciamo così ok poi così poi così poi così ah non c'ho la cosa è vero mannaggia allora rifacciamo no era così ok ok poi qui è soltanto che mannaggia vedete non c'è una cosa da non possiamo appoggiarci se faccio così ragazzi mi sa che ci ho veramente pensato mi sa che pure ci riesco allora così poi così 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 ok mamma mia ci ho veramente pensato un botto e ci sono riuscito livello prossimo il 25 e qui è un casino cosa sono i sensori non mi interessa la descrizione perché è tutto in inglese purtroppo non c'è in italiano e quindi ah tocca attivare i sensori no vabbè allora così se ci ripasso non è che si rispengono ah ok no così 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 ok vabbè logicamente è facile adesso livello 26 ok 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 allora qui ok fatto mi sa che ci siamo bloccati e muoio ecco facciamo così 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 no mi sembra di no ok rifacciamo così poi così così devo ripassare sotto ma come faccio che casino ragazzi che casino beh come faccio ad andare sotto poi ragazzi come faccio ah ok no vabbè ma che trollata praticamente dovevo ripassare su quel triangolino ci ho pensato adesso ma vaffanculo ragazzi io che ci stavo ripensando ripensando ma dai ok livello 27 qui dobbiamo sia scoppiare anzi no dobbiamo attivare i due sensori eh che cavolo ragazzi proviamo a fare così facciamo così poi così così mi sa che ce l'abbiamo fatta vediamo si ah mi sembrava più difficile invece no ok ok abbiamo il ghiaccio dobbiamo dobbiamo spaccare il ghiaccio giustamente così wow ok livello 29 ok perfetto il penultimo livello qua si fa più interessante la faccenda mi sa che abbiamo sbagliato eh si ragazzi ho sbagliato qualcosa io eh si ho sbagliato qualcosa io tocca ragionarci veramente tanto così poi così e qua tocca fare eh così così ma rimane quello vedete ragazzi poi mi rimane uno e ci rosi veramente tanto mamma mia eh che che potevo fare lì che potevo fare così 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 poi vado così vado così poi così 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 e mi rimane sempre quello dai ma che roba dai ma c'è solo una soluzione ragazzi il bello è questo allora avevo sbagliato qua forse mi sa di si mi sa proprio di si eh si mi sembra proprio di si mi rimane sempre uno no è un incubo è un incubo ragazzi ma che mi sta prendendo il giro il gioco è un incubo dai ma cosa allora e qui mi rimane sempre uno o iniziamo da sopra altrimenti no dovevamo eh no per forza mi rimane sempre uno iniziamo un attimo da sopra facendo tipo così 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 soltanto qua poi eh mi rimane uno e non è possibile cazzarola mi rimane uno non so cosa fare e se non so cosa fare ragazzi eh non posso dirvi altro no uno mannaggia uno uno e che posso fare uno 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 ma che cazzarola ma adesso se faccio per esempio così uno eh uno ragazzi che cazzo è veramente eh dopo scleri è una cosa incredibile uno e rimane sempre un ghiacciolo che posso fare mannaggia mannaggia a chi ha creato questi giochi uno ma vaffanculo veramente è uno è uno è uno aspettate io faccio così così poi così così mamma mia mamma mia mamma mia andiamo avanti facciamo l'ultimo mi sembra l'ultimo livello per fare il livello easy quello facile per completare questa serie di livelli facile mamma mia ragazzi mi rimaneva sempre uno comunque è una roba incredibile e qui cosa devo fare ah sempre spaccare i ghiacci qui non posso assuramente cadere ma posso finire in un tranello come questo infatti nemmeno posso uscire vai rifacciamo va così facciamo così allora no mi sa che sono ricapitato in quel tranello no anzi no sono riscappato fuori mamma mia ragazzi che casino così forse ho sbagliato anzi no ho finito ho finito si 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 ok abbiamo finito il livello la serie di livello easy cioè facile e quindi mamma mia poi c'è easy 2 pure addirittura poi c'è average range e vabbè ragazzi comunque se lasciate 5 mi piace sono pure pochi possiamo fare diventare questo gioco in una piccolissima serie la prossima volta facciamo una cosa carina e anziché fare un'unica serie oggi cioè un unico possiamo dire un'unica modalità oggi come abbiamo fatto con easy la prossima volta che faremo per esempio easy 2 la dividiamo questa qui questa serie questa modalità in due video perché altrimenti dura veramente parecchio questi video di questo gioco detto ciò ragazzi mi raccomando 5 like per far partire questa serie ebbene ragazzi questo video di orbox ci può finire così spero che vi sia piaciuto il link di questo gioco è in descrizione quindi se volete acquistarlo costa 3 euro tranquillamente lo potete acquistare sul negozio steam e ragazzi chi non è iscritto iscrivetevi subito mi raccomando i social sono qua sotto in descrizione instagram lologero2thebest e telegram chiocciola lologero2thebest ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video mi raccomando arriviamo a questi 5 like per far partire questa serie io vi saluto e ciao iscriviti al canale